e ben a tutti ragazzi e ben ritrovati sul mio canale per un nuovissimo video su Postscriptum in questo video ci vedrete dalla parte dei tedeschi come equipaggio di un tiga accompagnati come sempre da ragazzi di Postscriptum Italia dove il nostro obiettivo sarà difendere la zona dell'avanzata americana visto che in tanti mi avete chiesto di fare un video guardando un carro sono stato ben contento di portarvi questo nuovo video utilizzando perché no direttamente il tiga il grandissimo tiga prima di lasciarvi il video vi ricordo come sempre che se il video vi è piaciuto di lasciare un bel mi piace commentate qui sotto cosa ne pensate di Postscriptum e del video se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi per altri video di Postscriptum Squad Battlefield e tant'altro ancora e come sempre condividete il mio video ai vostri amici sui vostri social se volete dare una mano al canale oppure se volete farvi vedere questo fantastico gioco anche ai vostri amici come sempre vi ricordo anche che sotto nei primi commenti vi lascerò anche il link per essere di discord ai ragazzi di join squad.it quindi la comunità italiana di squad e di Postscriptum dove se sia che siate veterani oppure che siate neofiti quindi alle prime armi in questo gioco troverete sicuramente qualcuno che vi può dare una mano oppure qualcuno con cui giocare insomma di creare un gruppo e divertirci tutti insieme con la comunità italiana noi ragazzi ci vediamo al prossimo video bella ragazzi è bella lì tua parte del fiume gli spariamo dall'altra parte di cattiveria eh sì esatto pensavo proprio a quello comunque è una cosa più tattica più riparati da lontano mi seguo la strada quindi sì tanto per ora che arriviamo guarda dove siamo madonna voglio prima che arriviamo poi mi devi spiegare come fa poi mi devi spiegare come cazzo hai fatto a fregare cioè loro li sto mettendo la corda lì ti sali dentro e fai ah mio io ho approfittato della distrazione di quelli è solo dire che tutti i buoni che si lamentavano idioti non credevo mai che me l'avessero lasciato prendere così proprio il panzer 4 proprio così c'è di nonchalance proprio come ti immagini poi ci possono accanto guarda io il panzer 4 incazzatissimi dietro di noi poi ci passano accanto ci sclerano ci sparano magari probabilmente si sono bb vendemmia si giriamo il canone mi speriamo una pallottola vediamo poi ci sono i bb vendemmia ragazzi non si fa per lo siciliano oh ma mi dice uno che stai spiegando no stiamo parlando inglese non englenico ok ti stano dicendo su protocovkapi so stiamo andando alla tua posizione per defensi di Action per la lì L учenza C***l U ah io sono scelto che i ripcetti sono rongace no, no, no ci sono qui sarà l'antiaereo in circa 3 minuti le mine? no, illuminati ah, non lo so cos'è la quinta volta che ciò cos'è? ah, l'anti-aerea? si, 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 un flac allora ma ci sono gli aerei? ah vabbè si si, ma non infatti non ho capito che cazzo ci serve effettivamente l'anti-aerea contro la fanteria da use cosagerato le meccaniche non me le ricordo tanto bene ho giocato un po' no, vabbè, l'intere come squad ti servono 3-4 persone stanno dicendo che c'è una fob lì dove sta il ricognitore eh, iniziate a guardare verso destra la mancanza della stabilizzazione si sente vabbè non puoi vedere un tiga contro un Abrams non so di squadre che però è bellissimo vedi niente Thunder? no io direi lì sta un po' nascosto in tigece spugiti tipo si, ci sta ci sta sarebbe molto da tiga mi piace come cosa tipo qua, tipo qua ho visto i traccianti eh? eh, ho visto pure io infatti vedo fanteria, vedo un logistico vedo logistici eh, tira quel camion un po' ok camion a sinistra sto caricando gli HE non so quanto devo tirare all'alto però vabbè, ci proviamo ho preso spara gli HE? si si, si, si vedo più alto, facciamo il camion spedisolo e non spara troppo Angelus se no ci sgamano subito ok spara brevi raffiche se sei a colpo sicuro proprio eh, vedo il caro nemico caro nemico vedo eh però è molto abbastanza lontano eh sta scendendo se lo fai mettili a pcbc e tira sto mettendo lo vedo lo vedo ci ha visto? panteria l'hai missato l'hai missato? ok, mi ero più basso un po' più in basso ok dai dai carica carica credo lei si l'hai preso? preso mi sa che è dingato si si che cos'è? lo sherman ma ora lo vedo si va che ti dà il culo? si, sei tutto a fianco bella questo l'hai preso? dietro il motore mi sa si si ok bel colpo bravo dai 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 penso aver colpito mi è ingerci il minitank non lo vedo più eh spari mezzo agli alberi no! c'è l'albero davanti ci metto davanti ma 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 stop 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 cazzo non lo vedo più adesso eh ragazzi vi mando vi traccio un po' la posizione vai in questa direzione copri mi sa quel punto lì deve essere eh mi sa che ho preso? non lo so non lo so ho visto soltare Sì, ho visto anch'io un tipo di esposione Sì, vedo fiamme Bravissimo, sì, sì, vai Guarda Ok, io do un'altra, per sicurezza Buono, è andato Adesso c'è il fanteria Vai, è tutta fanteria Ok, cerco a K.E Oh, carro! Caro, caro, caro nemico, caro nemico Caricare, 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 caricare Sì, sto usando i cespugli direzione Ah, sì, lo vedo, lo vedo Ciorci, è Ciorci Mezzogiorno e un quarto, tipo Mezzogiorno e un quarto Ok, l'ho visto Carico APCR, ecco per gli Ciorci Spara colpa e poi angoliamo Non ci vede lui Contro a destra, Angelo Spara a destra, ore una Non ci arrivo, non ci arrivo Sparo torretta Vai Ah, è dei nostri, meno male che non ci ha sparato È dei nostri quello a destra Perfetto Va bene così, vai, fermo così Vediamo se riesco a beccarmi Ok, vediamo se riesco a prendere la trasmissione Oh, non ci ha visto Che ritardato Oh, bellissimo Bellissimo War Thunder in segno Ma chi è quello che corre? È l'alleato, ma dove va? Oh, cazzo, ma è ancora vivo? Puttala, troia Non è ancora vivo Bello, adesso Inferiamo No, ancora è vivo È ancora vivo, ce l'è Non ci ha fatto nulla, non ci ha fatto nulla Non ci ha fatto nulla Non ci fa, cilinga Cilinga, cilinga Eh, adesso è morto Ok Second enemy tank destroyed No, quella è un'alleata, quella è un'alleata No, quello sopra Vedo il puntino blu Ok, vedi che sono Eh, perché c'è l'alleato sotto Bene Carco gli H.I. intanto Con sicurezza Minchia, bro, è troppo pista questa cosa Spegni il motore, Rory, che tanto Non ci vedono Sì Non so se ce l'hai, forse sì Sì, sì, no, ce l'hai, tutte le squadre, tutti i membri Schia, quello sta proprio correndo in bocca Caro nemico, Sherman Dove? 140 140 Sud est, dove lo vedevo i contatti prima Sinistra, giro, matto Sinistra, sinistra, sinistra Intorno, dovresti vederlo, tipo là 100, guarda, lo vedi? Sì, lo vedo Sì, 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 sì Minchia, ci spara No, no, no Entra Entra, entra Mi sa che c'ha visto Angolo Bella, ti hai rotto il motore Ah, forse l'hai distrutto proprio Dì, sì Guarda che vampata Madonna Sì, è distrutto Dietro, dietro lo Sherman Erano i contatti, gli ti chiamavo prima Ah, ok Eh, ma non li vedo Viene da là Madonna, come cazzo Cazzo di colpo Di No, ma è sempre in 88 mm Ah, beh, certo No, no, effettivamente Giusto Cioè, prima il Corsi non moriva Lo sciamo a boom Stanno sparando Ma non è che però Da quel punto di Stiamo facendo Spawn kill Io spero di no No Non penso Mezzo ob a distanza Troppo a distanza Un camioncino che si muove Verso l'estero Quei tre Quelli da Guarda, cioè Quei due stanno Praticamente nella loro main Un check-in o un anti-tank? Tanto bello Uh, Churchill, Churchill Dove? Cermon Prina Vado Cambio colpo Vedo, 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 vedo Dai, carica, 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 carica Sì Ah, cazzo, è passata con il netto Eccolo Dai, lo vedi Ce la fai E' fermato Si è fermato Boom Non è andato Non è andato Siamo angolati Sì, sì, sì Dai, dai, carica, veloce, veloce Sto andando indietro Non so, si, non so Eh, non lo so Forse mi salto Vedo male appena la torretta Perché Eh, sì, anch'io Vendo poco sopra di te Sper che se volete No No, lascia, lascia No, questa è una posizione qua Dobbiamo rimanere No Eh, è stata Sta sparando Sì, sì, sì Sì, non sa dove Ok, ok, allora non sparo Aspetto che rimette la testa fuori Esatto Spegni sto motore, te Chi è? Quello è nostro Probabile Mi sembra di sì Quello col bazooka Quello col bazooka Che pazzi No, dai Eccolo Eccolo Uuuh Uh, l'ho fatto L'hanno fatto Saltare Non si sa come E sono quelli Gli spec ops Sì, sì, sì Ma è troppo pista Potenzione, raga Dietro il mio amico Grazie al buon commander thunder Ragazzi Sì, dietro i logi Gente Ma se adesso sparo Un colpo tipo H.E. su Rory Che fine fa? Tipo Penso a lungo distanza Vai, provaci Dai No, no Dopo come fai a respawnare Voglio esplosare È esploso qualcos'altro Invece a sud-destra Cento esterno Oh, tantissimi contatti dentro il power Bravissimo Sì Sparano anche Ottimo Oh, sparano Aspetta che entro Entro? Beh, ti conviene Carico Cuoco Boom Per colpo Ok, si stanno tutti ritirando verso Sai che potremmo fare? Potremmo ritirarci pure noi Però mantenendo la linea di cescugli Tipo muovendosi qua Andando tipo lì Sì, perché qui siamo troppo avanzati Non possiamo più coprire Sì, si stanno Ne tutte le nostre forze Si stanno ritirando Guardami dietro Ma io a retro Eh, ma calcola che non posso vedere a 360 Posso vedere solo metà Basta che mi trovi È una posizione dove riusciamo a vedere La fine del Del ponte lì Così? Eh, così se vede poco però Beh, no Così la fine del ponte si vede un po' A parte va bene Dopo lì c'è la casa davanti Tanto dopo al massimo ci risposteremo Eh, raga Però Però se cosa Aspetta Forse siamo un po' troppo risposti Aspetta Fammi vedere un attimo Ok, vai Un pelo più indietro Vai Vai Ancora, ancora, ancora Stop Però così Bellissimo Sotto l'albero Qui sta Lì c'è il nostro Panzer IV Che avanza Ho visto Io vedo poco In questa posizione Vabbè però Eh, è importante Che c'è un po' lo scafogo Sì, infatti Vabbè Vabbè spegne assoluto Vabbè nel caso può andare un pelo più avanti Eh Così facciamo vedere anche lui Guarda aspetta Angolo meglio Magari Ok Ci vedi così? Sì, sì Può spegne anche il motore Cerco 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 di sparare meno Eh, ragione Cerco di sparare il meno possibile Perché te che c'hai i traccianti Sì Ci vedono subito Sì, sì Ok Ma che cazzate i traccianti sull'MG? No In realtà no Se arriviamo per indicare anche a dove sparare Esatto Perché i proiettili in sotto tutti i traccianti A breve appena aprirò la bandiera Poi arrivarranno Dovranno passare proprio la cosa qua davanti Eh, sì Ma come siamo messi bene T'ho detto, t'ho detto Siamo messi troppo bene Cioè c'abbiamo sto ciscuglietto del cazzo Ma guarda che te l'ho detto apposta T'ho dato di come mettervi Perché Perché siamo veramente piazzati Siamo pensati molto bene Guarda il top sarebbe a metterci là Guarda ma Lì sull'albero Ah, eh, vabbè Come cazzo ci arrivi lì nel mezzo Putt'altro C'è proprio il mezzo dell'acqua Non ci puoi proprio arrivare Cioè, guarda Te scendi tanger Te non hai visto Gliela vederà Eh, scoffa Anche te Angelus Oh, di orrore è sparito Oh, no È ritornato Eh Cioè Siamo pensati benissimo Oh, bella così Sì, conviene Ah, ne ho visto uno Sì, hai visto quello passare Tipo Dietro la casa È all'angolo tipo Eh, sì All'angolo sinistro Sì, puoi fare Puoi sparare a mezzo a quei alberi Quali? Questi due dove la smocca proprio Di mezzo Guarda gente Sì, spiaggia Guarda spiaggia, Matteo Ah, sì Guarda gente Sì, destra A destra della casa Porca troia Se riesci a ruotare un po' di più Là, due quaranta Due quaranta Sì Vedi due quaranta dove c'è tipo Corrimano bianco della casa Sì Guarda che Ecco, lì dentro Spara lì Bello sto colpo Bello, bello Guarda, li vedi lì là? Sempre al canto al corrimano? Sì Vai, vai, è pieno Un altro Boom, me l'hai preso in pieno Oddio, cos'è che volo attivare? Credo che non sia un qualche arto La testa, il cervello Guarda, guarda quelli abbassati che passano Sì, sì Un cazzo Ah, il Panzer è rotto Ah, il Panzer è nostro Ah, il nostro Ma quello dove cazzo era fino adesso? Scusa Adesso, Angelo Ok La casa la vedi? L'importante guarda Sì Perfetto, mira la casa perché è piena Ma che cazzo ci faceva il Panzer ancora dietro? Ma che lesore? Guarda, sta proprio rasciando tutta la casa Ma c'è anche il nostro puma Ma cosa ci fanno? Ma troppo, Angelo Ma cosa ci fa il puma di... Ma guarda la gente là Stanno rasciando tutto La vedete la gente a sudore? Rory, ti devi levare perché mi copri il periscopio Ma cazzo Ma era bugato Ma guarda, c'è il nostro puma che sta Mi stai davanti? Sì, lo so Vabbè, sai, devi fare un colpo lì dentro la casa Vai, per sicurezza Oh, raga, Sherman Ho sbaglio No, è un puma, è un puma Guarda tanto, è bella Sto esplodendo cosa? Eh, oh, mi serviva una boccata d'Ariance Se respira lì dentro 3 tickets Ancora di condizionato Eeeh, capodanno 3, 2, 1 Buonanno Spank No Mi aspettava il colpo Ma come ti permetti? Con quel binocolo poi No No Guarda, guarda che pagato Con la torretta Ci devo passare a terra Uuuh Ottimo lavoro, ragazzi Gigi 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 Cioè, praticamente Cioè, amici Cioè, amici Cioè, amici Cioè, amici Cioè, amici